Dopo giorni di proteste ed annunci sulla questione targhe alterne e smog a Pescara, i commercianti passano dalle parole ai fatti, con la prima manifestazione di contrarietà al provvedimento preso dall'amministrazione Alessandrini per combattere l'inquinamento dell'aria in città, in segne degli esercizi commerciali spente a partire dalle 20 di questa sera, in segno di protesta contro quella che gli esercenti hanno definito la farsa delle targhe alterne, al loro giudizio inutile e dannosa soprattutto nel periodo dei saldi. Noi abbiamo condiviso questa posizione con altre associazioni di non condivisione di questa misura delle targhe alterne perché a nostro avviso non risolve i problemi di inquinamento che ha la città. Abbiamo detto che era meglio fare per esempio domeniche ecologiche in cui si chiudeva tutta la città e secondo noi avrebbe avuto un effetto migliore per la salute dei cittadini e non avrebbe impattato sull'economia della città e quindi sulle attività commerciali artigianali. Lunedì tutte le sigle delle associazioni che riuniscono i commercianti e che stanno dando vita alla protesta chiederanno un incontro con il nuovo prefetto di Pescara Francesco Provolo mentre martedì è già in programma un'altra manifestazione di protesta davanti a Palazzo di Città in Piazza Italia organizzata dal CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio. Ad onor di cronaca bisogna segnalare che i dati ARTA registrano un miglioramento della qualità dell'aria che respirano i pescaresi, merito delle targhe alterne ma anche e soprattutto del meteo che sta dando una grossa mano. Infatti il vento forte di questa settimana ha spazzato via gran parte delle polveri sottili responsabili del peggioramento dello smog. È proprio in considerazione delle mutate condizioni meteorologiche che il Comune potrebbe prendere la decisione di sospendere l'ordinanza targhe alterne ma ovviamente per ora vige un atteggiamento di prudenza. A gettare acqua sul fuoco della protesta però ci hanno pensato i 5 Stelle che con una nota hanno chiesto al sindaco Marco Alessandrini di revocare la delega al traffico al suo vicenzo del vecchio e in subordine di ritirare subito il provvedimento di chiusura al traffico. Ora non resta che guardare al cielo per capire se la pioggia o la neve getteranno acqua sul fuoco spegnendo le polemiche oppure se ci penserà direttamente l'amministrazione pescarese cedendo alle pressioni di opposizioni e commercianti e mandando in soffitta le targhe alterne.